In questo tutorial vediamo degli esempi di riepilogo di integrali indefiniti immediati. Partiamo da questo caso. In questo esempio dovrò applicare tre volte la formula dell'integrale della potenza di x e allora ricopio il 5 e poi integro x alla quarta ottenendo x, sommo 4 più 1 ed ottengo 5 fratto 5. Passa al secondo termine, ricopio meno 4, sommo a 3 1 ed ottengo x alla quarta fratto 4 più 2 ed infine integro x, ottenendo x alla seconda fratto 2 più c. Semplifico 5 con 5, 4 con 4, 2 con 2. Vediamo questo secondo esempio. Anche in questo caso dovrò applicare per tre volte l'integrale della potenza di x. Per quanto riguarda il primo termine devo ricordare che radice di x va pensata scritta come x elevato alla un mezzo e allora ottengo tre mezzi, ho ricopiato il coefficiente e poi integro x alla un mezzo e scrivo x alla un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1. Passiamo al secondo termine, ricopio 3 ed integro x alla seconda, 2 più 1 è pari a 3 e poi fratto 3 ed infine l'integrale di meno 3 sarà pari a meno 3x e poi aggiungo la costante c. Ora un mezzo più 1 è pari a 3 mezzi e scriverò 3 mezzi. Anche a denominatore ottengo 3 mezzi. Questo 2 denominatore del denominatore lo porto a numeratore e posso scrivere per 2 terzi e semplifico 2 con 2, 3 con 3. Nel secondo termine semplifico 3 con 3 ed ottengo più x alla terza meno 3x più c. Riscrivo x alla tre mezzi utilizzando i radicali e quindi avrò radice quadrata di x alla terza poi più x alla terza meno 3x più c. Vediamo questi altri due esempi. In quest'integrale osservo che tutti e tre i termini sono divisi per 3 e allora posso portare questo 3 a denominatore fuori dall'integrale scrivendo un terzo integrale di x alla quarta più x alla terza meno 1 in dx. Ora utilizzando l'integrale della potenza di x integro i tre termini ed ottengo un terzo ed apro la tonda. Ho ricopiato questo questo un terzo. L'integrale di x alla quarta è pari a x alla quinta fratto 5 più l'integrale di x alla terza è pari a x alla quarta fratto 4 e poi ho l'integrale di meno 1. Ricopio questo segno meno e l'integrale di 1 è pari a x più c. Eseguo infine questa moltiplicazione ottenendo x alla quinta fratto 15 più x alla quarta fratto 12 meno un terzo x più c. Per risolvere quest'integrale come prima cosa devo separare i due termini che compongono il numeratore e allora riscrivo quest'integrale in questo modo. 3 fratto x in dx, ossia questo termine diviso il denominatore, poi meno l'integrale di x fratto x in dx, ossia questo termine fratto il denominatore. Per la proprietà di linearità questo 3 lo porto fuori dall'integrale ed ottengo 3 integrale di 1 su x in dx. Per quanto riguarda il secondo integrale semplifico x con x e quello che mi resta è l'integrale di 1 in dx. Ora l'integrale di 1 su x è pari al logaritmo e quindi scriverò 3 logaritmo di modulo di x meno l'integrale di 1 è pari a x e poi scrivo più c. In questo esempio come prima cosa separo i due termini dell'integrale. Per quanto riguarda il primo termine applicando la proprietà di linearità porto il meno 3 fuori dall'integrale e scrivo meno 3 integrale di 1 su x in dx più. Per quanto riguarda il secondo termine radice di x la penso scritta come x elevato alla un mezzo e allora ho x per x alla un mezzo e applicando le proprietà delle potenze posso scrivere 1 più un mezzo in dx. 1 più un mezzo è pari a tre mezzi quindi posso cancellare e scrivere direttamente tre mezzi. Adesso integro 1 su x. L'integrale di 1 su x è logaritmo di modulo di x e allora scriverò meno 3 logaritmo di modulo di x e applicando la formula dell'integrale della potenza di x integro x alla tre mezzi e scrivo più x elevato alla tre mezzi più 1 più 1 più c. Ricopio meno 3 logaritmo di modulo di x più tre mezzi più 1 è pari a 5 mezzi e quindi scrivo x elevato alla 5 mezzi. Anche a denominatore ottengo 5 mezzi ma questo 2 denominatore del denominatore lo posso portare a numeratore e scrivere direttamente 2 quinti per x alla 5 mezzi più c. Per quanto riguarda questo integrale dobbiamo utilizzare il metodo del differenziale. Utilizzerò come f di x la funzione sotto radice ossia 2x più 10 e allora calcolo il differenziale di 2x più 10. La derivata di 2x è pari a 2, la derivata di 10 è 0 e poi scrivo in dx. Divido adesso tutte e due i membri per 2, in questo modo riesco a esplicitare dx ed ottengo dx uguale un mezzo d di 2x più 10. Vado ora a sostituire questa quantità al posto di dx ed ottengo 2 radice di 2x più 10 per un mezzo d di 2x più 10. Semplifico 2 con 2 e questa quantità 2x più 10 la pongo uguale a t e allora questo integrale lo riscrivo nel seguente modo integrale di radice di t in quanto 2x più 10 abbiamo detto che è uguale a t in dt. Ora l'ho ricondotto ad un integrale di potenza e riscrivo radice di t come t elevato alla un mezzo in dt. L'integrale di t alla un mezzo è pari a t elevato alla un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1 più c. Un mezzo più 1 è pari a tre mezzi e quindi avrò t alla tre mezzi. Anche a denominatore ottengo tre mezzi. Portando questo 2 al numeratore posso scrivere direttamente due terzi più c. Tenendo presente che t era pari a 2x più 10 posso riscrivere in questo modo. Due terzi 2x più 10 alla tre mezzi più c. Ed infine ripassando ai radicali ottengo due terzi radice quadrata visto che qui c'è un 2 a denominatore dell'esponente di 2x più 10 alla terza più c. Vediamo questi altri due esempi e partiamo dal primo integrale. Per risolvere questo esercizio posso applicare il metodo del differenziale e utilizzo come f di x 3x alla seconda meno 1 e scriverò d di 3x alla seconda meno 1. La derivata di 3x quadro meno 1 è pari a 6x in dx. Ora divido tutte e due i membri per 6x in questo modo esplicito dx ed ottengo dx uguale 1 su 6x in d di 3x alla seconda meno 1. Ovviamente scrivere così e scrivere così è la stessa cosa. Adesso al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale dx per 3x alla seconda meno 1 alla seconda per 1 su 6x in d di 3x alla alla seconda meno 1. Posso ora semplificare x con x e questa quantità 3x alla seconda meno 1 la pongo uguale a t. Questo un sesto lo porto fuori dall'integrale ed otterrò un sesto integrale t alla seconda meno 2 in dt. Ora integro t quadro ed ottengo un sesto t alla terza fratto 3 più c. Ora 3 per 6 è pari a 18 e scrivo un diciottesimo per tenendo presente che t è pari a 3x alla seconda meno 1. Scrivo 3x alla seconda meno 1 tutto quanto alla terza più c. Passiamo a quest'altro integrale. Per risolverlo come prima cosa vado a sviluppare il quadrato di questo binomio ed ottengo integrale radice di x alla seconda ottengo x poi il quadrato di meno 1 è pari a 1 e poi calcolo il doppio prodotto ottenendo meno 2 radice di x tutto quanto fratto x in dx. Adesso separo i tre termini del numeratore e scrivo integrale di x fratto x in dx. Per quanto riguarda il terzo termine meno 2 vado a scriverlo fuori dall'integrale ed ottengo meno 2 integrale radice di x la scrivo come x elevata alla un mezzo fratto x in dx. Per quanto riguarda il primo integrale semplifico x con x ed ottengo l'integrale di 1 in dx. Il secondo integrale lo ricopio così com'è. Per quanto riguarda il terzo integrale devo applicare le proprietà delle potenze. Qui ho un mezzo, l'esponente di x è 1 e quindi devo calcolare la differenza di un mezzo con 1. Un mezzo meno 1 è pari a meno un mezzo e allora scrivo x elevato alla meno un mezzo in dx. Ora calcolo i tre integrali. L'integrale di 1 è pari a x più l'integrale di 1 su x è pari a logaritmo di modulo di x meno 2 e qui applico l'integrale della potenza di x ottenendo x alla meno un mezzo più 1 fratto meno un mezzo più 1 più c. Meno un mezzo più 1 è pari a un mezzo quindi posso cancellare e scrivere direttamente un mezzo. Anche a denominatore ottengo un mezzo quindi cancello e scrivo direttamente un mezzo. Questo 2 lo porto infine a numeratore ed ottengo x più logaritmo di modulo di x meno 4 radice di x più c. Vediamo questi ultimi due esempi e partiamo da questo integrale. Per risolvere questo esercizio dovrò separare questi due termini del numeratore da quest'altro termine. In particolare scriverò integrale di x alla terza più x fratto 1 più x alla seconda in dx meno integrale di 1 fratto 1 più x alla seconda in dx. Quest'integrale è un integrale noto ed è pari ad arco tangente di x. Per quanto riguarda il primo integrale a numeratore metterò in evidenza una x ed ottengo integrale di x che moltiplica x alla seconda più 1 fratto 1 più x alla seconda in dx e poi il resto lo vado a ricopiare. Mettendo in evidenza una x osservo che posso semplificare x alla seconda più 1 con 1 più x quadro e allora quello che mi resta è l'integrale di x. L'integrale di x è pari ad x alla seconda fratto 2 poi meno l'integrale di 1 fratto 1 più x quadro è pari a arco tangente di x più c. Vediamo quest'ultimo esempio. Per risolvere questo esercizio dovrò utilizzare il metodo del differenziale e in particolare calcolerò il differenziale di radice di x alla seconda meno 5 e allora scrivo d di radice di x alla seconda meno 5. La derivata è pari a 1 fratto 2 radice di x alla seconda meno 5 per la derivata prima dell'argomento che è pari a 2x in dx. Semplifico 2 con 2 e adesso moltiplico tutte e due membri per radice di x alla seconda meno 5 fratto x. In questo modo esplicito il valore di dx e scrivo dx è uguale a radice di x alla seconda meno 5 fratto x in d di radice di x alla seconda meno 5. Sostituisco questa quantità al posto di dx ed ora semplifico radice di x alla seconda meno 5 con radice radice di x alla seconda meno 5 e poi x con x. Porrò uguale a t radice di x alla seconda meno x e questo 3 lo porto fuori dall'integrale ed ottengo 3 integrale di 1 in dt. L'integrale di 1 è pari a t e allora scriverò 3t più c tenendo presente che t è pari a radice di x alla seconda meno 5 sostituendo ottengo 3 radice di x alla seconda meno 5 più c. E con questo termino il tutorial su esempi di integrali indefiniti immediati.